Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a tema Halloween e a tema super creepy, super pauroso. No, ok, ci sarà luce, tanta luce, come sempre. Se con questo, tac, ancora più luce. Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi un video speciale a tema Halloween. Visto che stiamo parlando di Halloween e oggi che uscirà questo video è il 31 ottobre ed è ufficialmente Halloween, la festa americana dei morti. Vi ricordo che in descrizione nel primo link ci sono le magliette speciali di Halloween che sono queste qui. E ci sono ancora per tre giorni e poi non ci saranno mai più, quindi è un'occasione fantastica per avere la maglietta a tema Halloween con Entity, Aerobrine, Creeper di Sangue e tante cose belle e fighe. Quindi raga, insomma, compratela, è in cima alla descrizione. Solo per tre giorni, ancora poi non ci saranno mai più nella vita. Comunque raga, per questo video vediamo se riusciamo a raggiungere i 4.000 mi piace. È un video molto Halloweenoso, quindi spero vi piaccia e vai con la sigla. Ciao ragazzi, volevo informarvi che questo sabato e questa domenica, quindi sabato 4 e domenica 5 novembre, sarò presente a Lucca Comics. Mi troverete allo stand di AK Informatica nella zona Every Eye. Quindi ci vediamo lì e ci saranno anche le magliette di Aerobrine Non Esiste e quelle di Entity 303. Le magliette sono veramente poche, quindi se volete comprarle sbrigatevi perché altrimenti potrebbero esplodere. Ok ragazzi, eccoci finalmente all'interno di questo video. Cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a vedere una bellissima mod, praticamente super nuova perché non l'ho mai vista. 2, è uscito l'aggiornamento per la nuova versione di Minecraft, quindi la 1, 12, tipo una settimana e mezzo fa. E visto che l'ho trovata puramente a casa ho detto, oh raga ma tra una settimana è Halloween. Oh mio Dio, posso fare questo video fighissimo e quindi ve lo faccio oggi che è Halloween. Allora, questa mod è una mod molto molto particolare perché va ad aggiungere poche cose, ma che sono secondo me veramente fantastiche e veramente molto molto geniali anche. La prima cosa che andiamo a vedere, visto che è una mod di Halloween, sono le caramelle. Chi non sa che durante i festeggiamenti di Halloween tutti i bambini, e non solo i bambini perché io non sono un bambino però lo faccio, si travestono da mostri e cose paurose e vanno in giro per le case a fare dolcetto scherzetto. Sperando di ritrovarsi tantissime caramelle e dolcetti tra le mani, guai a chi non glieli dà perché altrimenti ve bruciano casa e quindi c'è anche lo scherzetto. E quindi questa mod va ad aggiungere le caramelle, le caramelle che ovviamente i bambini andranno a chiedere. Ci sono cinque tipi di caramelle, all'uva, alla zucca, chi è la caramella alla zucca? Chi se la mangia? La caramella al limone, la caramella alla mela verde e la caramella al cocomero. Cioè tra tutti i gusti normali ci sono questi cinque, magari quello che ha fatto la mod mi piacciono solo questi cinque. E poi c'è la mega candy, una caramella che si forma solamente unendo le cinque caramelle nel crafting. Ci sono anche altri oggetti che vedremo dopo. Cosa andiamo a vedere ora? Andiamo a vedere con chi usare queste caramelle e dove trovare queste caramelle. Di notte arriveranno i treeter. Chi sono questi treeter? Sono dei bambini travestiti dai mob di Minecraft, raga. Ed è davvero una ficata. E ci chiederanno le caramelle. Ognuno di questi bambini, quindi quello travestito da strega, quello travestito da... Che cos'è da questo rumore? Ok. Quello travestito da scheletro, quello da ragno e quello da zombie. Cioè ognuno avrà dei gusti particolari. Quindi se io vado da quello di ragno e gli do la caramella alla zucca, lui è super contento. Mentre se gli do, se non scappa magari la caramella al limone, mi fa guarda a me piacciono quelle alla zucca. E quindi vuole per forza quelle alla zucca. A meno che ci sono le mega candy che piacciono veramente a tutti. E noi le diamo a tutti. E sono tutti quanti su... Raga ci seguono? Ma cos'è sta roba? Ma ci seguono... Siamo i loro genitori. Allora andiamo in gita, ok? Ok, seguitemi tutti. Sì... Ok. Comunque dando appunto le caramelle a questi bambini. Ognuno ci darà degli elementi che ci avrebbero dato, insomma, i mob da cui si stanno travestendo. Quindi lo schedo ci darà le frecce alle ossa, lo zombie, la carne, il ragno, le ragnatele, tutto quanto Ve levo sta cosa dalla mano così potete andare via per sempre, ok Insomma questa è una cosa molto molto divertente Però dove si ottengono le caramelle? Si ottengono uccidendo dei mostri particolari Che sono i mostri che aggiunge la mod Quindi abbiamo l'Hallowich, una strega vera e propria Che dovremo andare a picchiare e una volta uccisa ci darà delle caramelle Ma ci darà soprattutto un altro oggetto molto fondamentale Non sarà molto semplice sconfiggerla perché ora siamo in creative Altrimenti ci lancerà delle maledizioni Una volta che la uccidiamo possiamo ottenere anche noi questo famosissimo oggetto che è il Curso Orb Che è l'oggetto tramite il quale ci lancia le maledizioni Guardate cosa possiamo fare Lanciando il Curso Orb possiamo mettere delle maledizioni in testa ai nostri nemici Compresa anche la streghetta, ok perfetto Come avete visto andrà a mettere sui nemici delle teste di alcuni mob che gli gireranno intorno Che succede? Le maledizioni saranno completamente casuali quando le lancieremo dalla Curso Orb Ma sono ben sei maledizioni diverse, ognuna per ogni mob principale Abbiamo la maledizione dello zombie che riempirà l'inventario di patate marce completamente a caso Poi abbiamo la maledizione dello slime che ci farà saltare altissimi ma ci farà andare piano 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 in giro La maledizione del ragno sarà veramente una tortura perché la nostra bellissima visuale inizierà ad andare in giro a caso e noi salteremo completamente a caso Poi c'è la maledizione del creeper che è una maledizione abbastanza cattivella Se cambiamo armi nell'inventario abbastanza spesso i creeper che ti girano in testa esploderanno e non faremo una bella fine Poi c'è la maledizione del ghast dove praticamente tutti quanti i mob nel giro di 50 blocchi verranno ad attaccarci Proprio tutti, tutti E infine c'è la maledizione dello scheletro che è abbastanza cattivella Perché la nostra vita continuerà a salire e scendere, scendere, salire e scendere Sarà veramente un casino regolarsi con i mostri avversari Poi come altro mostro avremo le jumpkin che sono queste zucche salterine Che di giorno, indirinate che succede, si appostano come se fossero delle zucche normali Basta mettere giorno e guardate, loro sono delle semplici innocue zucche Ma basta mettere di nuovo notte e vanno praticamente in giro ad ammazzare i giocatori Sono belle cattivelle eh Poi abbiamo le zombie ants, praticamente sono delle mani di zombie E non è che sono delle vere e proprie mani di zombie Diciamo che c'è uno zombie proprio sotto terra che sta resuscitando E ti vuole tirare giù con le sue mani Quindi se lo facciamo uscire da qua sotto, come vedete, c'è uno zombie vero e proprio Però fidatevi che non le vedete soprattutto in mezzo all'erba E sono abbastanza cattive anche queste Infine abbiamo un mob più forte della notte di Halloween Il Creeper Win Il Creeper Win, cioè Halloween più Creeper Creeper Win Cioè capì tipo pen pineapple apple pen Che raga è un Creeper enorme, gigantesco, viola come le zucche di Halloween Che praticamente è invincibile Ha la vita infinita E non potremo ucciderlo prendendolo a pugno a spadate Neanche con la spada più forte del mondo Riusciremmo a sconfiggere un Creeper del genere Però c'è un trucco Cosciotti di vita più due cuori e mezzo Come se fosse una mela dorata super potente Poi questa mod aggiunge altri mob Mob però sono tipo il Creeper, lo spider Dite cos'hanno di particolare? Sono praticamente degli scherzetti Cioè se noi andiamo a prendere questi mob Sono dei mob finti Cioè spadiamo il Creeper Lo colpiamo E sparisce Perché è un mob finto Stessa cosa il ragno Stessa cosa lo scheduler E stessa cosa con tutti gli altri mob Che ci sono all'interno C'è però una cosa che non vi ho detto Che ho ottenuto per ultima Perché è una cosa che mi piace veramente veramente tanto Vi ricordate dall'inizio cosa vi ho detto? Se i bambini che vogliono le caramelle Ecco non sono accontentati Vi faranno degli scherzetti Abbiamo qui un po' di bambini Noi andiamo a picchiettarli E guardate Niente caramelle? Intanto in chat ve lo chiedono Se sei matto Dacci le caramelle E noi intanto Uccidendoli guardate Ci spawnano i mob davvero E questo è un bellissimo scherzetto Bellissimo oddio È un scherzetto molto molto pericoloso Quindi dategli le caramelle Quindi ragazzi Questo video giunge al termine Spero che vi sia piaciuto Il link per scaricare la mob Sarà in descrizione Quindi se volete potete scaricarla E giocarci con i vostri amici Io vi invito a lasciare un bellissimo mi piace Ad iscrivervi se ancora non foste iscritti Per non perdervi i prossimi video Mi raccomando Questa sera andate a fare dolcetto scherzetto Oppure se state vedendo questo video il giorno dopo Spero abbiate presi tantissime tantissime caramelle Più che caramelle Cioè io volevo i dolcetti Quando andavo a fare dolcetto scherzetto per le case Proprio la cioccolata I kinder Non li ho vetti i kinder Vi ricordo che in descrizione C'è la maglietta di Halloween Ancora solo per tre giorni Noi ci vediamo Da Matteo Ferretutto Passate da Instagram Lina allo studio Comunque raga c'è Non c'è una volta che finisco un video Che non mi so dimenticato qualcosa Manca questo Questo oggetto qua L'ho scordato praticamente È il monster detector Praticamente fa un rumore fastidiosissimo E se c'è un monster nelle vicinanze fa Pi 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 E se è in lontananza fa Pi 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 E poi se non c'è nessuno Sta zitto Bella